Policastro è sapra in ginocchio per un violento nubifragio che si è abbattuto a metà mattinata. Strade trasformate in fiumi, cantine, seminterrati allagati, case e negozi invasi dal fango. Questa è la situazione un po' generale, venutasi a creare con l'intenso maltempo. Prima in piena notte c'è stato un violento temporale e poi ore di pioggia persistente culminate con un vero e proprio nubifragio. Inoltre problemi anche al porto a causa del forte vento da sud-ovest che ha alimentato le mareggiate e all'istituto comprensivo Alessandro Manzoni dove gli abbondanti centimetri di acqua piovana raccoltisi lì davanti hanno ostacolato il ritorno a casa degli alunni che comunque hanno svolto regolarmente lezione. Infine l'emergenza ha attivato anche un elicottero del nucleo provinciale di Ponte Cagnano che in giornata ha costantemente monitorato in volo la situazione. Intasato dalle telefonate il centralino dei vigili del fuoco di Policastro che hanno portato soccorso ad alcune famiglie e rimasti intrappolate in casa per l'elevato livello dell'acqua raggiunto all'ingresso esterno delle rispettive abitazioni.